Bella a tutti ragazzi e ragazze Siamo qui Io sono in Azzas826 E siamo qui per un nuovo video di Clash Royale Allora come vedete Io sono in Arena 5 Sono scalato Poi vorrei prendermi lo specchio Ahimè Non me lo posso prendermi Acquistiamo un poco di stregoni Non lo posso potenziare Lo so Ho qui il mio amico Ciao Saluto Emanue Lui si chiama Emanuele Se non l'avesse capito Anche c'è per le persone Che ancora non faccio io su Youtube Allora lui sta aprendo un attimo i suoi bauli E vabbè però Ho richiede le carte Poi richiede le carte I domatori ovviamente Cioè voi che fate dei domatori Se no Qui partiamo subito con la sfida Alla valle degli incantesi Mettiamo subito Un bel principe Magari tu mi dai dei consigli tecnici Mi dai dei consigli Cioè Che professional Tu sei in Arena 9 Era salito Ma è sceso Perché ce la capi Tutti bene Era salito in Arena 10 Ovviamente Questa sera ero stato uno scemo E Ovviamente Gli scemi si fanno su Clash Royale E' proprio quello lo scopo 3001 Sono preciso Tanto che mi danno i domatori Qui lo stregone che non fa mai In quel caspio Lui che butta gli arcieri dietro Il gigante Io lo fermo con l'orda di scheletri La migli... Ricordatevi ragazzi La migliore Carta Che possa Fermare Il doma Il Le migliori due carte Che possono mai fermare Il gigante Sono l'orda di scheletri E gli E l'orda di sgherri Ovviamente Cioè sono di più Sì però anche Quei barbari scelti Subito Vabbè Poi i barbari scelti E' una bella carta Poi soprattutto Perché il gigante Non attacca Perché Non ho capito Perché la supercell Abbia fatto questa cosa Però L'ha fatta Cioè Diciamo quasi tutte Le cartellare d'attacco Eh non Attacco L'ho dato Pure il domatore Cioè Perciò piace il domatore Perché Poi pure il veloce Se il barbari scelti Compessero direttamente La torre Sarebbe bello Cioè lì proprio È il paradiso Ragazzi I barbari scelti Io non faccio mai Una partita qua Perché Perché non va Ovviamente Il wifi Qua Non va Però Sì Che resto Fatto Abbiamo fatto Una torre In victory Che la mettiamo Cosa metto Consiglio Difenditi Mettiti la strega Davanti alla torre Tipo Metto pure Uno strego Una carccia Tanto che Metto pure la scarica Livello 5 La tende Uuuuh Hai colpito Agli scarri Popò Cioè io non lo sapevo Nemmeno Non li avevo ancora Messi Colpito Colpito Mò io quando Mi ingrippo Io metto Tutte le carte A casa Tutte quelle Che si caricano E allora Lì Di tendere Poi posso Guardate il tempo Doppio Lysir Vista Ceppa Ragazzi 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 Ma chi la scarica Sulla di schede Eh sì Vabbè Ormai sono già morti Già sono morte Ok Stiamo Pronto di schede Che non servirà a nulla Perché poi 8 7 6 5 4 3 2 1 Lo sappiamo contare Tutti Guarda Allora Qui Abbiamo scontro terminato Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Dai c'è Più 29 Boli d'argento Non possiamo fare Ancora nessun Spacchettamento 1400 Cioè proprio Com'è sto fatto Cioè se io ho vinto Come faccio Ad essere Il processo Questo è il mio nuovo Clan Ragazzi Prova Cioè non l'ho creato Io però Vi dico di fare Una saltata Nel mio clan E magari Chiedere un po' di carte Così Cose che si fanno Nei clan Ovviamente Perché questo baule Conti di 7 carte Prima negli altri baule Dicevo sempre 6 Perché Perché Quello è da arena 5 No Questo è da arena 4 No no Questo lo so No pure Ho perso un altro baule D'argento Sempre dall'arena 5 Eppure diceva 6 Che poi non te ne escono mai 6 Poi non te ne escono mai Alla fine Ovviamente Questiamo gli stregoni Perché Ci servono gli stregoni Allora vediamo Ancora ancora non fare una partita Di farci vedere Il mio numero di coppe maggiori Facciamo vedere Più o meno Se si vede Se si vede Forse Il mio numero di coppe maggiori 3.001 3.001 Ragazzi avete capito Io qui Ci ho vicino Io ci ho qui vicino Il più grande giocatore di Clash Royale Che io che ho mai visto Vabbè Caspita è successo No dimmi che Non si è cancellato il video Dove ho ammasso tutti i momenti No Allora comunque Scusate per il piccolo intoppo Comunque Fate un salto Da CiccioGamer89 Eh Ciccio Sì CiccioGamer89 Perché Il mio caro amico Fateci un salto Iscrivetevi al suo canale E anche al mio canale Iscrivetevi Mettete un commento Mi piace Mettete il link di iscrizione Il link di iscrizione Anche se Sicuramente lo metterò Però Vedrò Che palle Ma perché si spenge Si spenge Si Si spenge Senza la end Magari Magari se trova Anche CiccioGamer Qui Magari CiccioGamer89 No vabbè aspetta Eh è sceso Se non mi sbaglio No no Vedi su YouTube Un attimo Oh l'avevo visto L'avevo visto Dove Eccolo CiccioGamer89 Vai Premi Eh arena 10 Di sicuro Ma il mio Mi farei Lunga Ecco Eh Il suo mazzo Si è lui Assolutamente Io Fateci un salto Guardate Questo è il suo mazzo Iniziale Come vedete Non è un fake Ovviamente Non è affatto CiccioGamer Si è per forza 69 su 69 Magari Comunque Come ho già detto prima Commentate il video Mettete un mi piace Iscrivete al canale Di CiccioGamer Al mio E allora Alla prossima Ciao